Dio chiama tutti gli uomini. Figlia mia, additandoti il cielo, ti invito oggi a desiderarlo e a tener fisso nella mente il pensiero che l'ha, sarà la tua dimora eterna. Desiderare una cosa vuol dire mettere ogni sforzo per raggiungerla. Desiderare il paradiso vuol dire tendere alla meta con ogni mezzo. Non è un desiderio soltanto tuo. Dio chiama a sé tutti gli uomini perché possano vedere e partecipare alla sua felicità. È perciò nel tuo interesse combattere la buona battaglia, correre come se tu fossi in uno stadio la tua corsa per raggiungere il premio che ti è destinato. Pensa ai milioni di santi che ti hanno preceduta, a chi ha conquistato la palma del martirio, a chi segue l'agnello nello stuolo dei vergini, a chi nella schiera dei confessori e dei profeti, inneggia a Dio. Vi sono in cielo sante mamme, santi padri, santi sacerdoti. Non vi è categoria di persone che non abbia i suoi rappresentanti in paradiso. Chi si è santificato nei lavori più umili e chi in lavori di responsabilità e di ingegno. Chi si è offerto vittima per altri e chi ha trascorso la sua vita lottando. Chi ha passato nel silenzio i suoi giorni e chi ha predicato la parola di Dio. Nessuno però ha potuto entrare in paradiso senza il dolore dei peccati e l'amore di Dio e del prossimo. È questa la chiave che apre la porta del cielo a tutti. È la chiave di una serratura a tre mandate. La prima ti fa umiliare davanti a Dio, le altre due ti elevano verso di Lui amandolo e ti portano verso il prossimo con dedizione e carità. E i santi aspettano tutti i fratelli che sono nel mondo. È molto semplice, non ti pare?